Il frutto dei movimenti orogenetici della crosta terra Poi sul termine val di noto purtroppo spesso ci sono degli effigioni, non è una pallanza di toglie perché in questa zona abbiamo tantissime cose semplici perché in genere si si calava dall'alto e dopo il pianuro vorresti essere prima il 1300 e il 1500 però nulla ci può indurre in questo contesto per farmi vedere una cosa molto interessante sono degli raffigli e poi se vedete ancora qui abbiamo degli altri segni ma la cosa più interessante era consentito perciare gli animali allo stato brano e vi ricordo che molto diffusi tra la nobiltà siciliana tra l'altro lo stesso Federico II ha realizzato un tratto vedrete un prospetto roccioso di una casa a quello che si chiama no no ho il morto l'agra del suo grado bravissima brava però è bellissima certo e ma viene da quest'altra parte visto che c'era tanta proprio scusate gli uomini vivevano con le pezze c'era una mangiatoia quindi si dormiva voglio dire per comprare macchine potenze perché non è quello la potenza è la conferma perché Grazie.